Bella a tutti i dati game e bentornati a un nuovo episodio della Road to Master Siamo qui con Fiora, mettete sto like e commentate Che se no non arrivano i feed, ho letto oggi un ragazzo, oggi non mi sono arrivati i feed Perché se non commentate ragazzi è per quel motivo lì Siamo con Fiorona contro Poppy Il mashup Fiora contro Poppy è negativo in early game Perché prendete il cazzo duro in early game Cioè poco da fa Lo prendete, lo prendete tutto Però dopo il late game, siccome quando vi fate un po' di sustain e la black cleaver Lo scalate male perché gli fate true damage e Poppy Essendo comunque un tank che si vuole da un sacco di HP Soffre tanto la passiva di Fiora In early game però dovete stare al posto vostro perché vi nega anche la Q un macello Invece il late game quando la Q inizia ad averci un po' più cooldown Però vabbè, se lui spreca la Q così Un treddone io lo possiamo pure fare Mi raccomando mai tradare Poppy quando ho lo scuto up Io uso contro Poppy le rune sustain con l'ifsteal Perché l'unico modo in cui vi può fregare con... E' poccandovi Facendovi il sustain, facendovi un po' di life steal la rompete Infatti questo è uno dei pochi match up in cui se potete al posto di farvi la diamet in early game farvi la... La cosa, la... La life steal Il problema è che ho pushato la wave e così E ci potrebbe essere benissimo un Kha'Zix in top Quindi adesso perderò Un po' di minion, non me sa Finchè non vedo Kha'Zix in giro Perdo pure il cannone Purtroppo che vuoi fa? Devo sta safe che se no se arriva Kha'Zix so cazzo Dai se Kha'Zix c'era se n'è andata Non devo... Un errore che faccio spesso in top lane è farmi trovare la wave così in early game Messa così male Che è bellissimo, cioè Cristo santo, non c'ho l'acqua adesso Sono un bersaglio più che facile Ok, adesso che ho pushato così posso andare a portare Perdo un minion di exp ma... Va bene Per portare... Mi sono fatto zonare da solo, cioè Bad as fuck ragazzi Mai stare vicino ai muri a meno che non volete baitare un suo stun Invece se giocate Poppy Contro Fiora Fate lo stun Tipo mentre Fiora fa la Q Perché lì non... Mentre è in mid Q non può fare la W Fiora E quindi... Prendo abbastanza il cazzo Le sblood nostra Qua... Forse avrei potuto lasciarla frizzare invece per... Cioè... Avrebbe pushato più la loro Ho sbagliato Sbaglio a gestirmi le Wave Voi che mi chiedete? I video su come gestire Wave Ma io adesso tipo... Sono morto Perché mi fa la Ippop Anzi no, è True Damage Vedete che... Mi sono messo la Wave in un... In modo orribile È stata sempre in modo orribile Guardate la Wave come sta messa Sta sotto la torre sua Cioè... Perfetta per lui Ho provato ad arrivare in tempo qui ma... Mi ha pure fregato il Krags Sto in una situazione veramente in merda adesso Adesso si sfrizza la Wave ma... Lui c'ha il TP Advantage Io no Guardate lo sta Kha'Zix Morto e buorto alla fine per noi Io sto davvero sotto Dieci minion sotto Questo è l'errore che faccio Poi imparo con l'esperienza A gestire meglio le Wave Questo si Però... Assolutamente Adesso... Quello che non dobbiamo... Non dobbiamo traddare assolutamente Perché... A meno che un Vital così Lo potete prendere Ma non fare trade prolungati perché... Lei può tornare di P e noi no Fizziamo la Wave sotto torre Potete chiamarlo freeze Cioè... È arrivata già sotto torre quindi... Non è proprio un freeze però... Un semi-freeze facciamo Lei c'ha il suo IDA ma già... 100-100 La voce è arrivata sotto torre purtroppo Andiamo a cacca anche noi quasi quasi Anzi no Pusciamo per fargli usare il TPE Ok Perché se no non l'avrebbe usato Sarebbe potuto tornare a piedi tranquilla Come una Pasqua e... Sarebbero state ancora più cazzi Almeno... Ha usato il TPE La Wave adesso non sta in una situazione eccellente Sta un po' peggio come poteva stare Se l'avessi pushata però... Almeno... Gli ho fatto usare il TPE Adesso lei non ha né Colossus Né scuola passiva Quindi volendo potrei fare un... Un 3D o qualcosa Buono Strano che non mi abbia fatto Io l'ho fatto con la W Per proiettare una possibile R Perché in quel momento Gli era ritornato sul cooldown Della Q Quindi dico Prima farà la ulti per tenermi fermo E poi me farà la Q Invece non me l'ha fatta E quindi mi ha fregato un po' questa cosa Però alla fine sono riuscito comunque a proccargli la... La ulti E se riuscite a proccarla Vincete Vincete easy Già siamo... È passato un po' il tempo in cui Era veramente preoccupante Pop Non siamo ancora... Ancora lì Può vincere i trade se li giochiamo male Però... Siamo fuori pericolo Più o meno 59-58 abbiamo anche recuperato Adesso non uso Q né niente Perché voglio recuperare mana Anche se i costi mana sono abbastanza bassi Piorà Comunque... È meglio... Risparmiare quando potete Mari non fate i trade per un po' Mari trade date solo gli autoattacchi Sfruttando il fatto che avete la Vistia Mi ha preso un po' il cazzo questi trade eh L'importante è non far me da là Perché quando c'è una big wave L'avversario possono arrivare Quando c'è una big wave sotto vostro torre Perché quando cercate di colpire indietro A parte che è buono in generale perché Se uccide un avversario Il top 1 avversario Mentre gli sta arrivando una big wave Vuol dire che Primo Se è un livello sotto in generale Perché deve arrivare una big wave Quindi È exp Più gli fai... Se va a buon fine Gli fai perdere exp E fa armi, gol e tutto Più Oltre questo Quando lo dive E l'avversario cerca di rivellarsi Cerca di attaccarti Se prende pure l'agro emino E emino gli fanno danno E quindi so cazzi Lasciamo la wave così Spero sia andato back Potrebbe anche aver fegato il back E potrebbe tornare per pushare Ma a quanto pare non è così Quindi possiamo tornare a piedi Perché abbiamo lasciato la wave In un'ottima posizione per noi Come vedete adesso La wave è molto grande Si accumula Non dovrebbe... Sì esatto Arriva qui Si ferma qui E uccide Continua a uccidere i nostri minion Quindi lei perde molti minion Perché muoiono tutti Perlomeno tutta la fronte Nella minion Noi perdiamo un pochino Di minion Ma ne prendiamo molti più Vedete quanta wave arriva Dunque ha perso Tutta la wave Prima E Un minion melì O due minion melì E questa wave E noi invece prendiamo Tanto 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 di più Contento tu Sti trade Sono buoni Quando Non ha live steal L'avversario Ma se ha live steal Come me Perché adesso Me la sono buildata Sto trade del cazzo Perché io Recupero HP E lei ha sprecato Solo mana Uso subito W Buono Uso la W Sul burst Di Di Kha'Zix Vai Mette Non posso Fa niente Flash Kha'Zix Power Top No Ult Pop Mette 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 Stavo andando lì Mette Qua poteva salvarla Adore benissimo Era full HP E c'è il Colossus Mi bastava Oltre a Poppy O coso E avrebbe salvato La torre Perché Se sarebbe preso il tower Agro Poppy Non c'aveva la ulti Per fermarlo O niente Sarebbe bastato Veramente ultare lì Qua ho sbagliato Forse la direzione In cui camminare Sì Questo è l'errore Che ho fatto io Ma Cristo santo Era easy as fuck Questo è il Quarto gank Che mi fa top Questo sei morto Morti tutti Nice Allora sono in mid lane Quindi tanto vale Pushare la mid lane Andare potre Mori di pp Io dippo E tolgo il minion La salvo la torre Non mi interessa Se n'è ero una torre Perse Invece così La salvate E la wave top Come sta messa Vediamo un po' Bene per me Questo è andato a culo Però Sta bene per me Twitch è mid Quindi io posso Usciare un'altra wave Questa è morta È nuovo Qualcuno cover a bot Quella si salva Immagino Questa è tutta wave Mia Non vuole lasciarla Nessuno Bot sta messa bene Pure Mi serve Hydra e Blackriver Non so se riesco a farmi Kha'Zix Il late game In 1v1 Forse il late game In oltretto si Però è troppo fiddato Per farmelo adesso C'ho pure C'ho pure Etavia Cioè Non penso di riuscire a farmelo Ora come ora Nemmeno Mi serve Proprio devo andare più avanti Nel game Per potermelo fare In 1v1 Chiusiamoci il leader Sta a livello 11 Kha'Zix Lo devo solo provare Dovevo stare vicino a Minion Perché se no Mi shotta Da isolato Cioè Nel senso C'ha ogni 2 secondi La La Q Mi guanitta Quindi Era l'unica cosa Che potevo fare Stare vicino a Minion Aspettare l'altra wave Temporeggiare E cercare Break Talakuma Era Too hard Allora Mi guanitta Mi guanitta Abbiamo anche Anche Sarebbe morto 800 volte Twitch Altimente Ce la fate A difendere Tanto pare No Forse sarei dovuto Andare lì Che la wave Sennò sarebbe stata Immerta Io non ho wave clear E Ari Che non dovrebbe stare Laggiù E dovrebbe wave clear Anziché stare lì A non fare nulla Possiamo fight area C'ha la R Ok buono Il problema è che Ha la R Ma c'è il black shield Di Morgan Non so che stia facendo Ari È l'unica Che c'ha wave clear Perché Io non c'ho wave clear Sotto d'ore Non so Non c'è un piano Che può rimanere lì Pure V Tan Kench Tan Kench è quello Che c'è più wave clear Lì in mezzo Del support Per rendervi conto Non faccio ancora abbastanza anime Serve la black cleaver Ok l'hanno preso Nice Nice Seru Ma che coglioni Lux non c'è Quindi devo andare via Perché potrebbe venire il lux Scarpe Sono indeciso Ma se ne faccio quelle contro i cc però Perché ce n'hanno tanti Io l'ho L'ho autattaccato lì Perché tanto Se no avrebbe Autattaccato lei Dico Mari se faccio in tempo Non Non sta abbastanza in là Per passare il muro E quindi Viene a continuare a pushare Anche questa wave Perché Stando mid Però me lo sbrigà Orco d'inci Via via Back Facciamoci un po' Quelle contro i cc E iniziamo a farci Sta black cleaver Cristo santo Ragazzi Ma perché C'hanno Il jungler 10 2 3 Che ha Gankato ovunque No FF no Ci abbiamo D'uncage io abuso qui qualcuno deve coperare top rake nulla? no adesso non capisco perché con la Q non gli ho aiutato quell'altro vital cioè avevo fatto un vital all'inizio poi con la Q avrei dovuto ittagli quell'altro forse ce l'avrei fatta con la W non gli ho parato a me sale a Q me sale non l'ho fatta in tempo per poco infatti diventa invisibile non riesco a fare un cazzo dovevo andarmene via prima l'ho deciso di fai da perché tanto ero isolato avrei dovuto flashare non è detto che mi sarei salvato preferisco tenermelo per un team infatti per andare sul carry forse mi conviene scritto a bot a me qua a bot si accumula una bella wave ecco in due se lo so fatti per far vega picca zix quanto è affidato questa ult ha una cosa con la un po' una morgana un po' jungle difference un pochino livello 15 forse ho pure paura a splittare perché c'è kha'zix in giro non è che posso splittare lasciamo la wave così in top adesso arrivo niente stupido questa wave arrivava arrivava fino a noi vabbè che c'ho nel baron è morto almeno uno arrivo qui non c'ho la W quindi non posso andare troppo avanti ma nemmeno la R ancora ok dopo c'è una big wave che vado a prendere non abbiamo perso nessun Evitar però stiamo veramente sotto veramente veramente sotto 1000C prendiamo sta wave ancora mancano 500 gold la Black Cleaver no sta qua dietro eh mate io corro qua con i minion non è cosa che potevo fare cioè il problema è che i minion ne so vanno più avanti dovevo fai da stupido aveva già usato il salto non lo so non so nemmeno se posso farci contro K6 però tanto non potevo scappare troppo veloce si fa pure la G adesso che c'ho pure la Death Stance quindi dovrei broccare la cura ma lui è invisibile quindi va un po' anche a culo come sta messo? perché sta all'11 il nostro adicaria e il loro sta al 14 mica l'avevo vista sta roba Morgana sta al 10 l'ho lasciata solo farmare volevo portare l'autoattacco potenziato e andarmene invece l'ho tirata troppo presto qua devo stat top perché sennò si fa l'inibitor mica tra l'altro non c'avevo la R non dovevo oltreddarlo da subito lasciamo che si c'era occhio a Kha'Zix mi serve uno Sterak forse per farmi Kha'Zix io devo riuscire a uccidermi Kha'Zix in un ovione in modo che non mi minacci più di tanto e forse l'unico modo è con uno Sterak che mi pare il Burst forse ma perché dippi? ma perché deve dippare così? mi frega tutta quella farm che è mia di diritto stiamo farmando un sacco adesso perché non hanno preso ancora i nibitor però arriva un sacco i minion però boh too hard really too too much hard too hard non dovrei nemmeno poter sta qui ma c'ho la ultima però mi sa ho visto che non proccano i vital se è invisibile non so se è perché li becco non li becco io poi se è proprio così pensato è così ok ok intanto ho ammazzato cosa Non è a VW morire uno per uno Ma almeno non sono morto a gratis Voglio dire Ha pure flesciato Stiamo farmando un sacco noi ragazzi Il problema è che Kha'Zix ha Andatevi Via Ho dimissato tutto boys Ma perchè devo non fightare? Just go away Qua si fanno il bar Non posso dippare Vondaccio a piedi perchè Per quando dippo Me vedono Gone So in quattro Posso dippare Cioè non so un champion Che può fa pressure Cioè a me mi ingagiano e muoio Sono milena Non so un AP carry Tipo Rihanna Che può stare lì intorno A Daya Bastidi O un AD carry Che può caitar lì Alla istanza Cioè io vado dentro E muoio Fine Non posso far nulla Se non fossero morti lì Non c'è la GA Kha'Zix Oh ma quanto è grosso Kha'Zix Forco d'inci Oh Questa qui c'ha un sacco di danno pure Questo non ulta Potevo ultare Non ho ultato Cioè ho ultato ma tardi Siamo in 3v5 E abbiamo perso E abbiamo perso Nice boys Alla chi jungler Mica solo jungler Botta stra perso Però è Kha'Zix che ha solo carriato Vai rikia 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 di un lucky ragazzi qua gazix ha fatto il solo carry avete visto invaso come un god ma gancato troppo parecchie volte via non ha giocato per niente bene cioè la poteva salvare quella torre che era la face blood tower bad bad qua c'è fave capire che roba poi sono stati fatti un sacco di errori l'errore mio principale è farmi mettere le wave in modo bad e devo migliorarla sta cosa perché a due minuti e mezzo quando il jungler fa il primo gun che in genere ha finito la prima rutte giungla e non posso avercela wave in quella situazione in merda e niente raga io spero il video vi sia piaciuto se vi è piaciuto lasciate like iscrivetevi in descrizione insomma ci siamo capiti e bella a tutti gli altri game bella